E' un ferrigno ad Eio Guarda! Buona, buona! Guardami! Guarda, guarda, guarda! Lucia, lucia, pericolo! No, Dani, no! Il quinto! Ma... 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 ... non è un po' il muro! E' quinto, eh! Aspettate, uomo! E' via le tene, senti! No, no! No, no! No, no, no! Trovai! Trovai! Tira, Lucio! Non puoi tirare! No, 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 no! Tira, Lucio! Tira, Lucio! Un po' dios, un po' dios! Hey! Tira! 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 Tira... Tira... ... ... Grazie a tutti. 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 9-5. Non capisco, Lucio Ultimo non lo capisco. Non lo capisco, Lucio Ultimo. Ma che cazzo significa? Ma che significa? Di 4. Io rettifico di 4. Non lo capisco, Lucio Ultimo non lo capisco. Non lo capisco, Lucio Ultimo non lo capisco. 2 minuti, Lucio Ultimo non lo capisco, Lucio Ultimo non lo capisco. Tutto!